quante volte le onicotecniche si sentono chiedere ma le unghie respirano no signore le unghie non respirano perché sono fatte di cellule morte fatte soprattutto di cheratina e le unghie non respirano quindi quando andate dall'onicotecnica e gli chiedete soprattutto gli dite che voi non fate per questo mese due mesi tre mesi la ricostruzione delle unghie oppure il gel semi permanente perché volete far respirare le unghie è una grande bufala le unghie non respirano non c'entra niente la cosa importante carissime signore e signorine e ragazze è che le unghie bisogna comunque sempre pulirle bene disinfettarle per evitare infezioni e questo lo può solamente consigliare un onicotecnica professionale che vi sa comunque consigliare dei prodotti specifici per problematiche alle vostre unghie quindi ripetiamo le unghie non respirano ciao